Nella mitologia Abenaki degli indiani d'America viene riferito un certo Azeban, sarebbe uno spirito imbroglione con le sembianze di un procione. Questo si divertirebbe ad ingannare esseri umani ed animali per ottenere servizi o nutrimenti. Secondo molte tribù, questo essere non sarebbe però maligno. Si diverte ad imbrogliare la gente solo per ridere e senza avere un tornaconto materiale, come invece è descritto da altre tribù di nativi americani. Grazie